Prima edizione per il torneo di carnevale di Torremaggiore organizzato dalla sezione torremaggiorese del centro sportivo italiano in collaborazione con la scuola media statale Padre Pio. La competizione quadrangolare è stata vinta dai ragazzi del CSI che ha così voluto intraprendere un percorso di collaborazione con la scuola che porterà alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa il prossimo 30 di aprile. Un torneo che ha avuto la finalità di aggregare i ragazzi attraverso il gioco del calcio che è una delle varie attività che il CSI porta avanti a Torremaggiore da 13 anni e che ha voluto così aggiungere un ulteriore tassello ai propri progetti. In questo giro di carnevale abbiamo deciso di avviare un inter di collaborazione con la scuola media Padre Pio la quale ha risposto molto bene. La manifestazione è risultata con notevole successo sia di pubblico e soprattutto di entusiasmo tra i ragazzi che è la cosa fondamentale. Propositi, adesso prossimo appuntamento CSI il 30 di aprile avremo la festa dello sport al nostro oratorio dove chiaramente sarà una giornata, un inno allo sport a 360 gradi con corsa, tiro con l'arco, calcio ovviamente e quant'altro insomma. Noi in particolare abbiamo costituito il centro sportivo scolastico che permette alle scuole di partecipare ai campionati studenteschi indetti dal MIUR e all'interno di questa attività del centro sportivo abbiamo con questa associazione fatto questo torneo anche in preparazione a questi campionati.